Presidente, ci sono anche delle donne lucane tra le vittime dell'incidente ferroviario? Sì, ci sono anche lucani, in questo caso lucane purtroppo, però più in generale c'è un sentimento che accomuna le due regioni, in casi come questi accomuna una società, un popolo e c'era bisogno e c'è bisogno di stringersi così come ho provato e abbiamo provato a fare oggi venendo a Bari, incontrando Emiliano, ma anche in queste ore di speranza mista anche a delusioni, cerchi la vita tra le macerie e magari non la trovi, tra soccorsi, silenzi, attese, insomma c'è un popolo, quello italiano e sicuramente quello lucano e pugliese che si stringe e si unisce al dolore di tanti, purtroppo. Cosa le ha detto il Presidente Michele Emiliano durante il vostro incontro? No, abbiamo avuto modo di commentare questa sciagura, questa tragedia, le azioni che il suo governo aveva messo in campo, poi abbiamo avuto modo di recuperare un pensiero per le vittime, per i familiari, lo sgomento, un conforto reciproco e anche la volontà di continuare a lavorare perché questa nostra regione possa avere sicurezza sulle strade come sulle reti ferroviarie, lavorare insieme, trovare uno spirito comune.